Grazie a tutti. Oggi tocchiamo un tema a me molto caro che è quello della ricettività, come sbloccare la ricettività. Naturalmente questo video sarà visibile anche indifferita, pertanto le persone che vorranno commentare lo potranno fare e poi con calma risponderò a tutti voi. Ok, per chi magari mi conoscesse poco, mi presento. Sono la dottoressa Simona Vitale, sono una woman coach, sono una counselor in psicologia gestalt ed una ricercatrice in sociologia e da dieci anni aiuto le donne a ottenere di più, soprattutto sbloccando la ricettività. Buonasera Federica, buonasera a tutte le persone che si collegheranno. Come facciamo a sbloccare la ricettività? Oggi possiamo assaggiare un po' del metodo, fai meno, tieni di più per sbloccare la ricettività. Se sei qui è perché evidentemente in un certo qual modo c'è qualcosa che ti risuona. A proposito della ricettività, come fare per ottenere di più facendo meno? Come dicevo prima, da dieci anni aiuto le donne a sbloccarsi nella ricettività, ad ottenere la famosa quadratura del cerchio, cioè la soddisfazione sia in ambito professionale, mi riferisco alla gratificazione sul lavoro e la solidità, la sicurezza economica, sia all'amore nella costruzione di una famiglia, sia quindi in relazioni più felici e armoniche. Come si fa ad ottenere tutto questo? Non è facile, non è facile soprattutto alle donne alle quali è stato dato culturalmente il compito di provvedere agli esigenzi degli altri e questo un po' penalizza la donna perché occupandosi spesso degli altri, dei figli, del marito, dell'amica di turno, perché no anche dei genitori, accade che restano poche risorse, risorse intellettuali, risorse emotive, risorse fisiche, di forza, per poi poter raggiungere i propri obiettivi. Quindi qual è la soluzione? La soluzione è tesaurizzare al massimo il nostro patrimonio psicoenergetico. Per chi ha letto Femminità è abbondanza, fai meno e o te di più, sa che per me il patrimonio psicoenergetico è fondamentale. Che cos'è il patrimonio psicoenergetico? È l'insieme di tutte le nostre risorse, sia fisiche, sia psicologiche. Quando parlo di patrimonio psicoenergetico intendo tutto quello che ha a che fare con noi, quindi mi riferisco a beni, sia materiali, sia risorse immateriali, perché vanno protette, vanno protette con un uso strategico del nostro tempo. Ora, per ottenere la famosa quadratura del cerchio, molte donne seguono il percorso Femmino, ottieni di più, che è un distillato di quelli che ho individuato come i blocchi principali delle donne nei dieci anni di attività. Blocchi che hanno a che fare con l'incapacità a ricevere, la paura di prendere, la paura di sentirsi in debito se magari stai prendendo e incominciano ad ottenere molto di più in ogni ambito. Quali sono i risultati? Sicuramente un maggiore riconoscimento, sia in ambito professionale che in ambito privato, ma soprattutto una maggiore autostima, una maggiore autostima data non dall'accertamento dei propri titoli, molti confondono l'autostima con le certificazioni che abbiamo appese qui e lì nella stanza, ma con un senso di dignità, un senso di amor proprio, un senso di amor proprio che deriva dall'essere anche solamente egoiste quando la situazione lo richiede. Ciao Vera, ciao Chiara, ti sto proiettando sulla tv perché il messaggio arrivi ancora più forte e chiaro, ottimo. Allora dicevamo, come è possibile raggiungere questa famosa quadratura del cerchio? Attraverso a volte anche i no. Una frase che mi è molto chiara e chi mi conosce lo sa è che la differenza tra una donna di successo e una donna molto di successo è che quest'ultima dice a quasi tutto di no. Significa diventare stronze? Niente affatto. Significa diventare delle persone terribili, non più in grado di dare? Niente affatto. Significa incominciare ad usare una parola che si chiama reciprocità. Ciao Lucia, ciao Lucia, ciao Cara. Che cos'è la reciprocità? È quell'ingrediente, quella sorta di elemento magico che nelle relazioni non ci fa sentire spibrate, stanche. La reciprocità è una cosa che imparano subito le mie clienti perché significa avere delle relazioni armoniose, delle relazioni dove non c'è squilibrio, non c'è uno sbilanciamento tra chi dà e chi prende. Le relazioni armoniche sono quelle relazioni che ci ricaricano energeticamente, che ci nutrono a livello profondo, che ci nutrono a livello emotivo. Molte donne danno, danno, danno e prendono poco. Poi andremo a vedere perché prendono così poco. Darsi il permesso interiore di prendere è un'autorizzazione fondamentale, è un'autorizzazione che fa davvero la differenza. Darsi il permesso profondo di prendere, di ricevere, ristrutturando tutto quello che abbiamo imparato finora sul prendere, sul ricevere, sul dare è fondamentale perché ci permette di vivere la vita allineati con quello che vogliamo e di modellare, di sagomare la nostra vita su quelli che sono i nostri bisogni più profondi. Per me, lo sapete, è una donna di successo, non è una donna che ha il corpo perfetto con il bikini all'ultima moda, beve mojito ed è a Miami, magari anche quello, in piscina ed è strafamosa e ha tanti follower, ma è una donna che vive semplicemente la vita che vuole. Ma per vivere la vita che si vuole bisogna fare una cosa, cosa? Un passo indietro, in questo passo indietro noi andiamo a calibrare le nostre esigenze, significa portare il focus da fuori a dentro. Molte donne si ritrovano ad un certo punto della vita, 40-50 anni, magari fanno un bilancio e si dicono che cosa ho fatto, magari ho aiutato gli altri a raggiungere i propri obiettivi, ho facilitato la vita degli altri, questa è una cosa bellissima, edificante, che non va perduta. Ma che cosa sarebbe accaduto se avessi utilizzato tutta quell'energia, tutte quelle risorse, quell'impegno, quella fatica, perché no, per realizzare i tuoi propri obiettivi? Ecco, quello che voglio fare oggi con voi è un piccolo assaggiro del mio metodo per rifocalizzarti su di te e sui tuoi bisogni, di modo che quando li andiamo a raccontare fuori, sono dei bisogni che arrivano chiari, inequivocabili, senza che l'altro debba indovinare qual è la cosa che vogliamo. Molte frustrazioni derivano proprio da questo inganno della mente, questa sorta di diceria che è una vera e propria bugia, è una credenza limitante, secondo cui chi ci ama deve indovinare quali sono i nostri bisogni, e magari neanche noi li sappiamo. E nel frattempo incominciamo a covare odio, rastio, risentimento, rabbia, una rabbia feroce che si incomincia a accumulare, perché non stiamo secondando ai nostri bisogni, quindi facciamo entrare più sì nella nostra vita, sia ai nostri bisogni, sia ai nostri desideri, sia ai nostri sogni, sia ai nostri progetti, e incominciamo a calibrare i no, perché quando noi diciamo un no, che però era un sì, è quel sì che invece era un no, si fa sentire, accade che diventa una somatizzazione, accade che si trasforma in una rabbia sotterranea che ci portiamo per tutto il giorno, e non sappiamo ad un certo punto che cosa succede, succede che magari non abbiamo più voglia di fare niente, ci viene una sorta di depressione, cadiamo in una tristezza perché abbiamo detto tanti di cui sì, che in realtà erano dei no. Quindi per entrare nel vivo di questa live, che si chiama appunto Inizia a ricevere audacemente senza limiti né sensi di colpa, ti chiedo di indagare dentro di te che effetto ti fa ricevere audacemente senza limiti e senza sensi di colpa. Magari c'è una parola che più di un'altra risuona nel tuo corpo, magari c'è la parola audace che ha provocato un brivido dentro di te, oppure magari è la parola senza limiti, che ti dà un senso di espansione, o perché no la parola senza sensi di colpa. In questi giorni quando le persone si sono iscritte al nostro gruppo meraviglioso, qualcuno mi ha scritto voglio partecipare alla live, voglio partecipare al gruppo perché non ne posto più dei sensi di colpa. Quindi comincia a scrivere qui sotto qual è la parola che ti emoziona di più. Ricevere audacemente, senza sensi di colpa o senza limiti. Io ti aspetto e leggo i tuoi commenti. Naturalmente, come dicevo prima, se ascolti questo video in inferita, quindi non siamo più live, non dimenticarti di fare gli esercizi che ti darò durante tutto il corso di questa live. Quindi il primo esercizio è sentire il tuo corpo, agganciarti al tuo corpo e sentire che sensazione procura la parola audacemente, senza limiti, ricevere, senza sensi di colpa. Federica dice, ricevere è come se sentissi che c'è solo scarsità per me. Ok, ok. Benissimo. Allora, Chiara dice sicuramente senza limiti, mi hanno sempre detto di limitarmi. Ok, miei care donne, le parole che ho scelto per questa live non sono parole casuali, sono parole che ti danno già un'informazione su dove sei bloccata sulla risettività. Se la parola che ha risuonato su di te è senza limiti, come diceva Chiara, è perché probabilmente portiamo avanti un programma mentale che ci dice, ok, siamo limitate, ci possiamo spingere fin qui, no? Come dice il detto, il limite è il cielo, ma neanche lo possiamo rompere questo tetto di cristallo. Quindi possiamo comportarci in un modo tale per cui ci incominciamo a predisporre per una ricettività illimitata. Oppure se la parola ricevere ci emoziona è perché, come diceva Federica, sento dentro di me sempre una sensazione di penuria, di mancanza, di scarsità, di pochezza. Quindi continua a scrivere qui sotto quali sono le parole che ti hanno emozionato, qual è la parola che ti ha emozionato più delle altre, perché incominci a prendere delle informazioni preziose su di te, su dove sei in questo momento. Donatella dice senza sensi di colpa, sarebbe fantastico. Sì, e perché no, non solo senza sensi di colpa, ma anche senza sensi di debito. Perché molte donne, io ho riscontrato nei miei one to one, mi dicono, non prendo, non ricevo, perché sento che poi devo restituire, devo dare qualcosa in cambio. E questo si riferisce anche a un caffè, anche a ricevere un complimento, anche a ricevere un semplice favore come vengo a prenderti con l'auto oppure andiamo insieme, ti accompagno qui. Vi risuona? Sentite che vi risuona qualcosa? Allora, portiamo a casa questa informazione, cioè la parola che sta vibrando adesso nel nostro corpo. perché la vera differenza si ha quando un'informazione si aggancia al corpo, delle informazioni mentali, non ce ne facciamo niente, le donne che lavorano con me lo sanno, amo le cose pragmatiche, amo i risultati concreti, e gli sblocchi avvengono quando le informazioni passano per il corpo. Se l'informazione resta qui a livello mentale, non cambia nulla, altrimenti possiamo leggere tutti i libri del mondo, fare i migliori seminari del mondo, però l'informazione resta a livello cerebrale, non diventa un nuovo setting che si va a impiantare nella nostra memoria cellulare, creando nuove abitudini e creando nuove modalità. Ok, allora, dicevamo, i rapporti bilanciati, i rapporti armoniosi, sono quelli dove diamo e riceviamo senza che ci sentiamo poi sconnesse da noi stesse, dimentiche di noi stesse. I rapporti equilibrati sono quei rapporti che ricaricano, dove c'è una profonda simmetria, dove siamo spesso i rapporti adulto-adulto, non trattiamo l'altro come un bambino, non lo stiamo trattando come un deficiente, perché succede anche questo, diamo talmente tanto come se l'altro non fosse in grado di sostenere magari una frustrazione, un piccolo no. Quindi i rapporti simmetrici sono quello che deve essere il nostro paro in questa live. Immagina, per un secondo, come sarebbe la tua vita se a partire da questo momento prendessi in maniera proporzionale e armonica rispetto a quanto dai e scrivilo qui sotto. ti ripeto la domanda come sarebbe la tua vita adesso se incominciassi a prendere in maniera proporzionale e quindi armonica pertanto rispettosa di te e dell'ambiente circostante in maniera armonica proporzionale a quanto dai come sarebbe? ti faccio fare questo esercizio per incominciare a far sentire al corpo la sensazione di relazioni armoniche il corpo è fondamentale nel processo di apprendimento senza il corpo non andiamo avanti e non sblocchiamo quelle risorse che ce le teniamo lì e sono latenti non sono manifeste allora Federica dice sarebbe molto diversa mi sentirei meno prosciugata e ride ok ti sto facendo queste domande per creare il terreno perché noi abbiamo bisogno dello spazio per ricevere chi ha letto quel libro famosissimo sicuramente anche molto banalotto per certi versi not secret si dice che per ricevere bisogna fare spazio ed è vero a livello più profondo noi abbiamo bisogno di predisporci in uno stato di disponibilità di apertura per fare entrare il nuovo altrimenti ci sono degli ostacoli io li vedo proprio come dei pacchi davanti alla porta l'abbondanza la ricchezza l'amore vuole entrare nella tua vita ma se trova questo ostacolo non riesce ad entrare e qual è questo ostacolo? l'ostacolo sei tu che fai tutto che ti metti il mondo sulle spalle che fai anche per gli altri che ti metti sulle spalle anche le responsabilità altrui Chiara dice mi sentirei molto più ricca e rilassata ok incominciamo quindi a immaginare l'ipotesi che per il momento è solo un'ipotesi che smetti di essere disponibile per tutti 24 ore su 24 come sarebbe la vita? eh? neanche per tuo figlio devi essere disponibile 24 ore su 24 te lo do io questo permesso che non vuol dire che non devi esserci e non devi esserci nell'emergenza ci mancherebbe altro però ricevere dei paletti è altamente istruttivo a tutti i livelli sapere che tu hai dei confini che le persone si possono spingere fino ad un certo livello è fondamentale perché quando doti l'altro di un immaginario libretto di istruzioni dove comunichi come devono avere a che fare con te che cosa possono fare e cosa non possono fare è qualcosa che ti cambia la vita perché molte donne si mettono tutto il mondo sulle spalle perché vi racconto qualche esperienza di qualche mia cliente che adesso è felice in relazioni armoniche perché si dicono se non lo faccio io non lo fa nessuno oppure senti se questa frase ti risuona se lo fanno gli altri e lo fanno male non lo sanno fare come lo faccio io allora in un'ottica di meglio fatto che perfetto io ho visto tantissime donne che hanno sganciato l'opportunità la sera di essere cucinate dai propri mariti non cucinate nel senso che sono state messi al forno ma nel senso che si sono date l'opportunità di aprire le braccia alla recettività sgombrando almeno un ambito della propria vita e allora mi dirai eh vabbè ma mio marito non sa cucinare bene impara cucina oggi cucina domani alla decima volta farà qualcosa di gustoso meglio fatto che perfetto meglio delegare e responsabilizzare negli incontri nel mio percorso vedo moltissime donne ritrovare un'armonia familiare sganciandosi dall'idea che più danno più saranno amate non è così in un certo qual modo quando dai troppo sei data per scontata ma la tesaurizzazione del nostro patrimonio psicoenergetico non deve essere fatta in maniera manipolativa ma in maniera rispettosa di noi stessi e degli altri non sai quante donne ho visto ho visto e te lo testimonio settimana scorsa ho avuto un altro feedback di questo tipo che delegando ai figli compiti in proporzione alla loro età e alle loro competenze si sentono tutti più uniti in famiglia io ho visto ragazzi di 18 19 20 anni figli delle mie clienti riuscire a farsi il letto da soli o buttare la spazzatura o dare le crocchette al cane quando ridistribuiamo i compiti e questo lo possiamo fare anche al lavoro perché metterci sulle spalle il lavoro anche delle nostre colleghe no? quando tutti hanno la propria quota proporzionale di impegno le aziende le famiglie funzionano meglio quindi incomincia a masticare la possibilità di mollare il controllo perché c'è dietro tanto controllo no? mollare il controllo significa fidarsi anche dell'altro non lo farà oggi in maniera perfetta non lo farà domani ma dopo 10 20 volte l'assetto familiare cambia così come l'ambiente sul lavoro cambia ciao cara allora dice Chiara Trevisan io con mio marito tutto 50-50 abbiamo il nostro equilibrio il problema sono le figlie che iniziano a essere grandi 13-16 anni a farsi aiutare è sempre una lotta quale meravigliosa età se non 13-16 anni per creare una nuova armonia domestica voglio raccontarti una storia c'è questa donna la storia è dell'anno scorso una donna che ha seguito il programma famiglia ottieni di più la quale aveva tre bambini di cui uno con un po' di difficoltà a ciascuno di loro ha affidato dei piccolissimi compiti e l'armonia familiare è cambiata da così a così erano contenti erano contenti di essere responsabilizzati di essere trattati in linea con la loro età hanno incominciato a guardarsi in un lato c'era il fratellino più grande che aiutava nei compiti il fratellino più piccolo per mezz'ora al giorno hanno incominciato a sentire che essere parte di quella famiglia significava anche darsi una mano collaborare fare il tipo per l'altro essere supportivo il tipo di eredità che questa donna adesso sta lasciando ai suoi figli è molto più di valore che lasciare un'eredità in termini economici perché potrà dire che i loro figli si supporteranno l'un l'altro e che in famiglia in un gruppo il team building funziona funziona in ogni specifico gruppo un'altra cosa che spesso va ai danni della propria realizzazione professionale e che blocca la recettività è senza dubbio il voler salvare gli altri ad ogni costo se vogliamo salvare gli altri c'è sempre un motivo dopo ce l'andiamo a vedere e ce l'andiamo a vedere perché abbiamo questa tendenza a essere sempre disponibili a essere quelle che chiamano sempre a essere quelle che magari prendono la macchina ci sono anche quando non ce la fanno se hai investito come dicevo prima tanto tempo a rendere la vita facile agli altri immagina che cosa succederebbe se tutta questa energia incominciassi ad usarla per te molte donne per i propri uomini sono delle vere proprie dei con una pluralità di funzioni se smettessi di essere super funzionale per il tuo uomo e cominciassi a essere la sua musa ispiratrice verso la bellezza verso la poesia verso anche il donare il suo amore la sua forza la sua nobiltà d'animo cambierebbe tutto nella vita che non ti sto dicendo che ti devi mettere lì in panciole non devi fare più niente attenzione significa fare in maniera commisurata rispetto alla tua energia rispetto a quanto in quel momento riesci a dare e distribuendo i compiti togliendoti dalle spalle la responsabilità altrui che ci pensi del resto noi siamo cresciuti anche attraverso le frustrazioni perché non dare all'altro la possibilità di venirci incontro anche ricevendo un no come risposta non morirà non morirà anche un bambino che riceve un no come risposta non morirà cosa c'è dietro questo modello di voler sempre aiutare gli altri di essere sempre disponibile del dire sempre sì che cosa c'è dietro questo modello c'è la famosa sindrome della cocelossina conosciuta da qualcuno anche come sindrome di candy candy per chi ha guardato i cartoni animati negli anni 80 e che io amo definire la sindrome della brava bambina chi è la brava bambina? è quella donna che vuole essere ad ogni costo accondiscendente compiacente che vuole far vivere più di ogni altra cosa un'esperienza gradevole al suo interlocutore e si impegna con fatica come se il suo compito nella vita fosse accontentare gli altri ma questo atteggiamento ti induce ad essere data per scontata quando invece ci incominciamo a dare valore siamo priorizzate fortuna dice farsi dire che è brava esatto questo modello della ricerca dell'approvazione sociale ad ogni costo non ci permette di ricevere non ci permette di prendere non ci permette di farci vedere come adulte come donne che hanno una rispettabilità perché siamo lì ad appiccicare il ruolo di mamma e papà chi che sia devo far contento mamma e papà invece non sapete quando quanto le cose cambiano quando ci permettiamo di dire di no in maniera non sadica non manipolativa ma nel rispetto di quello che stiamo vivendo adesso ridistribuendo i compiti quante donne ho seguito che non riuscivano a beccare uno straccio di fidanzato decente perché facevano tutto e attraevano uomini passivi si mettevano sulle spalle tutti i compiti facevano loro da mamma erano completamente il maternage quando ho incominciato a dettare le proprie condizioni a raccontare che cosa vogliono dalla vita che cosa desiderano quali sono i loro sogni e a farsi portare anche la cena a casa a chiedere di essere venuti a prendere a raccontare che cosa immagiano nel futuro che cosa hanno nel cuore in termini di relazione hanno filtrato e gli uomini passivi quelli che vogliono solo prendere se ne sono andati sono stati cacciati via senza che si dovesse mettere su un litigio o investire chissà quante energie i no sono un vero e proprio repellente per i predatori energetici sono come quando ci spruzziamo lo spray anti zanzara ad agosto andiamo a vedere un film all'aperto al cinema i no le nostre condizioni le nostre regole sono dei veri e propri repellenti per le persone che vogliono solo prendere ho visto donne che davano 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 senza fine imparare a ricevere imparare a riposare imparare a prendere del vuoto del tempo di qualità per se stessi ho visto donne passare da una condizione in cui erano letteralmente esauste a sentire come prioritari i propri bisogni ho visto queste donne ad un certo punto così insicure così incerte passare ad uno stato di fiducia in loro stesse in quello che dice il corpo hanno incominciato a fidarsi dei propri bisogni delle proprie emozioni hanno incominciato a vivere le proprie emozioni come una bussola che ti dice guarda se stai provando questo piuttosto che quest'altro avrà la sua ragione d'essere se ti stai arrabbiando in questo momento avrai tutte le ragioni del mondo quindi hanno smesso di appiccicare fuori la validazione e se la sono data spesso dietro la creazione di una brava bambina c'è anche un evento traumatico magari sei diventata adulta molto in fretta sei diventata il genitore del tuo genitore perché ci sono state delle assenze ci sono state delle mancanze e che cosa succede quando diventi precocemente adulta succede una cosa interessante che continui a dare anche quando sei grande perché in un'epoca in cui dovevi prendere dovevi essere accudita dovevi essere presa in cura e magari i tuoi genitori non c'erano era insufficiente il loro apporto sei diventata tu partecipe del loro benessere psicologico continuerai a farlo è come se ti fossi detta ad un livello della coscienza se neanche mamma e papà che sono le figure genitoriali gli adulti e la situazione si prendono cura di me e allora sono io che mi devo prendere sempre cura di tutti gli altri chiaro questo passaggio è un po' delicato è anche tosto però va fatto perché va individuata probabilmente la radice della costruzione di questo dare cessantemente e si fa spazio il permesso di prendere per creare delle relazioni armoniche proporzionate dove c'è finalmente la reciprocità ok allora dicevamo visto che amo le cose pratiche i risultati concreti diamo qualche spunto da portarci a casa di modo che possiamo già fare pratica di recettività allora voglio iniziare con una pratica importantissima che è l'auto ascolto perché se non ci ascoltiamo come facciamo a raccontare agli altri quali sono i nostri bisogni se non ci prendiamo del tempo magari anche nel silenzio per sentire dove siamo in questo momento per respirare per calibrarci per definire i nostri bisogni i nostri obiettivi come facciamo a dirgli agli altri gli altri dovranno individuare così magicamente i nostri bisogni e siamo frustrate perché magari gli altri non sono degli indovini no a tal proposito voglio raccontarti la storia di un uomo che ha 60 anni bellissimo in gamba ricco che però non riesce non riusciva a trovare l'amore e la sua vita perché era tutto intento a dare agli altri quindi attenzione questo è un fenomeno che non riguarda solo le donne è vero che le donne culturalmente hanno questo ruolo di caregiver però succede anche che in alcuni uomini è sproporzionato il dare con il ricevere pertanto era tutto lì fissato a far vivere un'esperienza gradevole alla donna di turno però si perdeva il contatto con sé non sapeva dove era non sapeva se questa donna era una donna che faceva per lui oppure no quest'uomo oggi finalmente ha incontrato una donna perché si è agganciato al corpo e sa mettere i suoi paletti sa comunicare le sue esigenze ok quindi una volta che ci siamo auto ascoltate che cosa possiamo fare possiamo per esempio prenderci del tempo nel rispondere questo è un'autorizzazione che voglio che oggi fai tua se magari sei abituata a dire un sì automatico è un no ti fa fatica no puoi prenderti del tempo e rispondere dopo vuoi venire alla mia festa guardo l'agenda e ti faccio sapere ok prendiamo questo appuntamento devo pensarci su datti del tempo per rispondere questo tempo è un tempo che educa l'altro innanzitutto che tu hai delle priorità che hai delle esigenze e poi ti dà lo spazio necessario per ascoltarti per sentirti se quella cosa la vuoi fare oppure no magari il tuo fidanzato tuo marito ti chiede di fare una vacanza un po' estrema un po' adventure a te non piace ma non lo sai ti devi ascoltare altra cosa che possiamo fare lo dicevamo prima è settare i confini dire di no prendere familiarità con la parola no mi ricordo di questa mia cliente che l'anno scorso ha detto al marito che quella sera non avrebbe cucinato perché la figlia era in dad e il marito non era abituato gli ha chiesto di comprare delle cose per cena si è trovato spiazzato ora ha un valido collaboratore domestico la sera nella preparazione della cena quindi nessuno muore se dite di no cosa più importante dell'esercizio che vi lascio oggi è chiedere 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 l'esercizio che vi lascio è il seguente chiedete a tutti provate per 24 ore a chiedere a tutti indistintamente anche cose piccole piccolissime ma chiare in equivocaboli no fa freddo non senti anche tu che in questa stanza fa freddo ma sto sentendo freddo per favore puoi chiudere la porta se il macellaio butta lì giù 200 grammi di prosciutto ma tu ne volevi 150 e fa la classica domanda signora vuole che lascio no 150 grammi sono sufficienti se l'amica ti chiama quando sei stanca puoi dire in questo momento sono stanca possiamo sentirci più avanti puoi chiedere puoi chiedere che tuo figlio si rifaccia il letto sia a 16 anni sia a 18 anni sia a 15 anni lo può fare puoi chiedere continuamente puoi chiedere al fidanzato magari che quella sera sei stanca se ti porta il sushi a casa la pizza il pollo quello che ami no puoi chiedere puoi chiedere che una collega ti aiuti con una certa cosa puoi chiedere informazioni se non sei abbastanza competente su qualcosa chiedi a tutti quindi per 24 ore incomincia a prendere familiarità con il chiedere per vedere che chiedere non è nient'altro che una forma naturale di contrattazione dei bisogni perché noi siamo degli esseri umani inseriti in una comunità sociale e c'è una continua contrattazione dei bisogni quando chiedi continuamente non a partire da un figolio di una bambina perché molti hanno paura di chiedere perché cominciano a sentirsi vulnerabili cominciano a sentirsi magari fastidiose ma da una prospettiva di adulta che negozia significati in un ambiente sociale circostante capirai profondamente che chiedere è qualcosa di profondamente neutrale e che cosa succede? succede che ti fai vedere incominci a comparire nella relazione incominci a materializzarti non sai quante donne ho visto sbloccarsi nel percorso fa meno tini di più dove prima erano invisibili non c'erano letteralmente e poi compaiono nella relazione si fanno vedere l'altro le metti su in cima alle proprie priorità ti chiedo quindi di non mimetizzarti con la mente circostante ma di farti vedere chiedendo di modo che l'altro possa sapere che cosa ti passa per la testa perché non vede l'ora di sapere che cosa ti passa per la testa perché gli facilita il compito perché poi se ti ama vuole accontentarti nessuno può sapere che cosa c'è qui dentro nessuno lo sa neanche le persone che ci sono più prossime o con le quali condividiamo più tempo possibile sia al lavoro sia a casa esempi pratici li possiamo avere con il vicino con la signora che incontriamo sull'autobus con la persona che sta facendo con noi la fila al supermercato con chiunque possiamo chiedere adeguatamente nel rispetto di noi stessi e degli altri fai questa prova per 24 ore chiedi chiedi perché ti accorgerà di una cosa meravigliosa che il no un no come risposta non fa paura nei miei clienti prima di iniziare il percorso non chiedono perché hanno paura di un no come risposta scrivimi qui sotto se è anche la tua paura un no come risposta è ok è neutrale ma quando avrai imparato a prendere quando avrai imparato a chiedere più cose durante la giornata a tutti quindi a più fonti non avrai caricato un'unica persona della fonte del tuo benessere succede che sarai molto carica riceverai senti che anche l'altro può venire verso di te questo è fantastico ma un no non sarà così drammatico perché una donna che non chiede mai quella volta lì che chiede confermami se è vero se ti è capitato se riceve un no come risposta è una tragedia perché ha caricato emotivamente di significati inappropriati quel no chiaro? quando invece siamo abituati a chiedere la richiesta si sgonca di significati inappropriati come se ricevo un no allora vuol dire che non valgo se ricevo un no allora significa che non mi ama se ricevo un no allora significa che ho ragione che sono uno schifo quando riceviamo un no in un mare di sì lo prendiamo per quello che è una negoziazione di significati una contrattazione dei nostri bisogni in un universo sociale tra adulti nient'altro che questo questa pratica ti indurrà anche a disidentificarti dalla brava bambina il cui comportamenti sono molto pericolosi perché se la brava bambina continua a girare come un disco rotto succede anche che quando gli altri hanno dei comportamenti offensivi noi ci continuiamo a comportare come una brava bambina premiando dei comportamenti che non sono adeguati ok? quindi ti lascio con questo esercizio ti lascio con l'esercizio del chiedere 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 indistintamente a tutti per 24 ore a più ponti possibili più cose il rispetto di te stessa e dell'altro poi raccontami qui sotto com'è andata ok? prima di salutarti voglio darti una notizia fantastica per chi vive in Lombardia lunedì prossimo lunedì 9 lunedì 9 maggio dalle 16 alle 20 presso il mio studio in Monza è possibile ricevere una sessione gratuita di 30 minuti quindi se abiti a Monza se abiti in Brianza puoi chiedere questa opportunità sono 30 minuti di coaching per la gestione del tuo stress ma soprattutto per lo sblocco della ricettività e puoi farlo attraverso le indicazioni che ti darò qui sotto nei commenti quindi riceverai un memo con i riferimenti il nome di telefono dove chiamare ti accorderai per per venire al mio studio in quell'orario specifico ma attenzione naturalmente essendo un orario molto ridotto ed essendoci già due persone prenotate è chiaro che questa opportunità fino a esaurimento posti va bene io vi ringrazio per avermi seguito ringrazio anche le persone che guarderanno questo video indifferita grazie soprattutto per i vostri feedback sono interessata a sapere che cosa è successo dopo la 24H nella quale avete chiesto scrivetemelo qui sotto sono contenta anche di darvi un feedback ulteriore rispetto a quello che è successo vi saluto ci vediamo prossimamente ciao da Simona Vitale grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti